ragazzi a chi facesse piacere iscrizione gratis e campanelli altrimenti va bene lo stesso allora dice uno può dire Giuse ma eh te sei un intervista sfigatato no non è quello de de non vuol dire essere intervista sfigatato vuol dire voler bene al calcio voler bene al calcio italiano che purtroppo sappiamo tutti che ormai è in decadenza no non è più la serie A di venti cinque anni fa lo sappiamo tutti i tempi delle sette sorelle te lo ricordi sono più quei tempi là spero che ritornino no perché poi dopo quando sei ad un livello basso non puoi far altro che risalire ecco perché eh molti sono interessati ad investire eh nella serie A perché perché nella serie A squadre importanti le paghi poco e comunque con poco le riporti in alto perché poi un esempio dell'Inter eh se compri l'Inter anche se ha un miliardo di debiti la paghi un miliardo e due per esempio miliardo sono da noi più di un miliardo di debiti la paghi un miliardo e due se vai a comprare in Manchester United lo paghi sei miliardi capisci? sistema del calcio italiano un calcio alla frutta ma il calcio cioè nazionale ragazzi nazionale italiana non la segue più nessuno parliamoci di A noi siamo la nazionale meno seguita in Europa dai propri tifosi quindi c'è un motivo per quello dove vai a investire vai a investire dove sono i margini di recita no? Vai a investire dove già ecco comunque sono a posto vai a investire laddove e sai che puoi tornare su altrimenti altrimenti ragazzi si chiude bottega ma voglio arrivare al punto il calcio italiano non ha bisogno della Juventus perché la Juventus ormai al di là dell'Italia da quel segnale di illecito di cui il calcio italiano come ho detto prima non ne ha bisogno perché Juventus al di fuori dell'Italia vuol dire illecito ora gli esagerati Juventus mafia cioè a parte chiamano anche noi italiani a volte noi siamo mafiosi sono qualcuno di qualche altro quale paese ma a parte quello il calcio italiano non ha bisogno della Juventus perché la Juventus sporca il calcio italiano vogliamo riparlare dell'esame farso di farso di Suarez plus Valencia doping c'è chi dice la Juve ha fatto fuori Pogba perché il testosterone è una roba che vedi subito guarda caso il testosterone guarda caso un giocatore che non ha partecipato a una partita eh che non ha giocato e forse non gli possono togliere nemmeno i tre punti ci sono tante ipotesi anche tra i tifosi giuventini tra i gobbacci quello non mi interessa eh io io non lo so ma non voglio dire quelle sono robe che non mi interessano a me quelle mi interessa io voglio bene al calcio italiano il calcio italiano deve buttare fuori la Juventus vanno radiati il calcio italiano non può più sostenere la Juventus altro e va tutelato il brand gravina te devi essere il primo a dimetterti non ti sei mai preso le tue responsabilità hai sempre cercato di galleggiare e stai distruggendo il calcio italiano caro gravina quindi il calcio italiano purtroppo ad oggi non si può più permettere la Juventus mandateli mandateli a giocare in Cina che si vede con Zang mandateli in Cina a giocare quindi brand da eliminare non brand da tutelare brand da eliminare la Juventus caro gravina la Juventus è un brand da eliminare per il bene del calcio italiano perché tanto loro ogni anno ne tirano fuori una Turam Lautaro la coppia una coppia di attaccanti quando funziona bene non solo quando sono affiatati ma quando c'è stima reciproca quando tra calciatori c'è stima funziona tutto meglio Lautaro e Turam si sentono anche in ritiro nelle varie nazionali si sentono quotidianamente perché nel derby vogliono spaccare tutto poi non è detto e tu vinca quattro a zero io non sono uno di quelli venite vi distruggiamo mi hanno fatto i milanisti l'anno scorso in semifinale di Champions League che sono stati umiliati in mondo visione perché questa è la verità i milanisti l'anno scorso sono stati umiliati in mondo visione e ci siamo fermati perché quelle sono partite sia l'andata che il ritorno potevamo fargliene quattordici quindici di gol soprattutto l'ultima partita contro il milan potevamo farne sette otto solo e noi siamo dei signori e ad un certo punto ci siamo fermati vai a sparare sulla roce rossa non è da non è non è roba nostra poi lo vedremo il campo tanto che decide rispetto di tutti paura di nessuno attenzione siete voi ci dovevate fare il culo si facciamo lì vediamo lì le hanno c'era le ha o ci sono tutti o no speriamo ci siano tutti compreso caluru quindi l'autaro e turam coppia che si sta cementando sempre più purtroppo purtroppo mi tocca riprendere cose che ho detto un mese fa e che ho ridetto anche ne anche ieri purtroppo a me non non è per lo so che non ci sono soldi lo so che dovevamo fare così lo so benissimo mi sembra in questo canale la situazione finanziaria dell'inter sia stata spiegata a mena dito da circa un anno un anno e mezzo poi qualcuno si è svegliato tutto sudato e poi giornali repubblica New York Times parlano di quello che abbiamo detto anche noi un anno fa il famoso miliardo e rotti di debiti lo so che non potevi fare altro ma quando prendi 4 35 anni devi stare attento parte il portiere è quello che dà più garanzie fisiche perché te hai bisogno di garanzie di tenuta e garanzia mentale queste garanzie qui ti devono dare questi giocatori il numero sette dell'inter quello che era alla juve quello che era alla juve non riesco non lo non scherzo io non riesco a nominarlo quello lì soffre di tendinite ho letto stamattina dura fatica negli allenamenti dopo gli allenamenti dura fatica perché soffre di tendinite è un trentacinquenne bollito alla frutta quello lì quello a venti minuti mezz'ora nelle gambe te lo ripeto quindi è uno su cui Sanchez io sono io sono rimasto basito dal comportamento di Sanchez perché Sanchez quando c'era parrucca andava in nazionale sano e tornava rotto ora invece ci va anche non da infortunato ma ora ma in nazionale anche se ha qualche problemino perché lui soffriva di questa roba qua lo sapeva cosa fa non è che rimane a milano sicura si allena no lui prende e va in nazionale se mi dirai giuse ma qui la società dov'è sono d'accordo allora se il giocatore non ci arriva da solo devi essere te a farcelo arrivare a dirgli ciccio giovane te rimani qui dove vuoi andare dove vai dove vuoi andare in nazionale c'hai questa patologia rimani qua e invece niente lo lascia andare in nazionale questa è una roba che non capisco sinceramente le nazionali creano danni a tutte le squadre soprattutto ai top club europei no però non esiste i giocatori sono pagati dai club non esiste che io ti do un giocatore che te me lo rimandi infortunato lo so che non 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 puoi decidere te nazionale se si infortuna oppure no ma non esiste che un club riceva dei danni perché degli giocatori deve andare in nazionale cioè questa storia deve finire deve finire questa storia quindi il numero il numero 7 l'ex del numero 7 attuale dell'inter ex della juve sanchez sono già due a livello fisico che si fa ci si può contare per ora no io dico più no che sì c'è Arnatovic Arnatovic come sta l'anno scorso è stato fermo sei mesi e gli ultimi due anni ha tribolato parecchio ricordo a tutti che c'è un articolo di fine giugno dove Arnatovic gira le stampelle perché dice che il piede lo sta massacrando e che sta andando fuori di testa quindi torniamo al discorso dei trentacinquenni su chi possiamo fare conto su chi possiamo contare chi me la garantisce a me una tenuta fisica e mentale ecco perché ti facevo questi discorsi qua perché poi li ho dato tutti i nodi vengono i peti rosa ampia rosa ampia sì però tra di essa rosa ampia comincia a tagliarne qualche uno secondo me sperando e sanchez si riprenda ma ad oggi vedi sta bene non sta bene gioca non gioca il numero 7 l'ex juve c'ha la tendinite va fatto riposare soffre tanto anche dopo gli allenamenti lo vedi e sono già due tre e quello ti stavo dicendo io ora comunque stasera c'è Italia Grazia speriamo Luciano e eh tu finca questa partita eh la nazionale ma ha rotto i coglioni no ragazzi non ne posso più di queste nazionali basta perché io mi sono veramente me li sono frantumati voglio vedere giocare l'Inter ciao ciao